Buona domenica, ben trovati da Firenze Smart, da Mauro Ciutini in studio. Sulla variante di Valico, tra il Bivio A1 e Badia, il traffico è rallentato, il traffico è intenso in direzione di Firenze. In direzione opposta, tra Calenzano e il Bivio A1, un veicolo è in avaria, appunto in direzione di Bologna. Passiamo alla 11, rallentamenti per traffico intenso tra Alto Pascio e Lucca Est verso Pisa. Segnalati materiali dispersi sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra San Miniato ed Empoli-Ovest, in direzione di Firenze. Infine sulla 12, tra il Bivio A12, diramazione Livorno e colle Salvetti, prudenza per un veicolo in avaria, la direzione è quella per Rosignano. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana, comune di Firenze. Buona domenica, a più tardi. Grazie a tutti.